Allora, in effetti 1, 2, 3, 4, 5 e 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 5. Veloci! Ecco il gruppettino di ragazzi della femminile, le led di giallorosse, c'è mister Anna. Qua c'è un misto di pulcini e esordienti. Lai indietro c'è mister Raniero Tucci, preparatore dei portieri. Qua c'è Cristian che controlla questo gruppo di ragazzini. Qua c'è mister Gabriele di Felice. Ci troviamo al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano per la seconda giornata di allenamenti. Ieri si è ripresi gli allenamenti dopo la lunga sosta di ottobre che c'è stato proprio lo stop a tutte le attività della nostra scuola calcio, della prima squadra, del settore giovanile, tutto si è fermato. Allora stavo dicendo che ieri si sono allenati per la prima volta dopo lo stop alle ore 16.30, sono ritornati in questo bel prato verde. i ragazzi della categoria piccoli amici sarebbero quelli più piccolini e primi calci. Dopo alle 18.15 ci sono stati i ragazzi più grandi, meglio dire, più grandi della categoria juniors. mentre oggi come da programma stilato dalla società, alle 16.30 si sono radunati i pulcini e gli esordienti, ragazzi e ragazze. fra poco alle 18.30, dopo le operazioni di sanificazione e così, ma comunque solo... Scusate, stavo dicendo che prima di entrare i ragazzi si sottopongono al controllo della temperatura con il nostro termoscanner, dopo ci sono le operazioni di certificazione, autocertificazioni, come da protocollo all'ingresso sia vicino ai bagni, ci sono postazioni di gel per disinvettarsi, devono entrare con la mascherina e riuscire con la mascherina, non possono utilizzare i sfogliatoi come da protocollo. Ritornando a quello che stavo dicendo, oggi alle 18.15 scenderanno su questo manto erboso del nuovo di Via Olimpia i ragazzi della categoria giovanissimi e allievi di mister Giovanni Di Giulio. Ovviamente, come stavo dicendo prima, non possono essere utilizzati al momento i sfogliatoi, non possono farsi le docce, quindi i ragazzi sono venuti già con la divisa di allenamento, chi con la truda, chi già in pantaloncini e così si ritorneranno a casa e si faranno la doccia. è un sacrificio che lo fanno ben volentieri in quanto il loro desiderio era di tornare ad allenarsi, a socializzare, a rivedere gli amici, sempre con le cautele del caso. Speriamo che tutti torni alla normalità e che finisca questo modo di vivere che ha scombussolato tutte le abitudini in tutti i settori ricreativi e lavorativi. Ok, alle prossime riprese qua da Nuovo di Via Olimpia oggi mercoledì 28 aprile 2021 seconda giornata degli allenamenti della nostra scuola calcio settore giovanile. Alle prossime riprese da Casseffrentano.